Nella vita le cose accadono. Accade di lasciare la propria terra. Alla ricerca di grandi opportunità. Accade di ritrovarsi insieme lungo innumerevoli viaggi. Mano nella mano, in equilibrio sul filo di un'amicizia autentica, che si tramuta in un sentimento radicato nell'anima. Accade persino di precipitare. Dentro un vuoto che non lascia spazio al tempo e, semplicemente, ci si avvinghi alla forza dell'altro, che è diventata la tua. In un attimo accade di sentire scivolare le dita a quell'appiglio che non ha più forza dentro un'esistenza razionale. Un libro che esprime quanto possano essere violente le emozioni e quanta passione possa avere vita lì dove la vita stessa cessa di esistere. Giorgio Guicciardi Una storia vera Giorgio Guicciardi Giorgio Guicciardi Giorgio Guicciardi Giorgio Guicciardi